Salve da Alberto Fazzolo, diamo inizio a questa nuova puntata di Metamorfosi, la trasmissione indipendente ospitata da Ottolina TV. Ogni settimana realizziamo due puntate che vanno in onda rispettivamente il mercoledì e il giovedì sera alle 21.30. Il programma ha un budget proprio che potete sostenere facendo delle donazioni sul conto corrente che trovate in descrizione di questo video. Questa trasmissione è realizzata anche grazie a Fricci Core di Via della Caccia 14 a Roma e For You Video di Via Alessandro Cialdi 1 sempre a Roma. Quest'oggi parliamo di quello che la legge chiama maternità surrogata e lo faremo insieme a Ornella Mascoli, femminista storica e membro di un centro antiviolenza, Giulia Bertotto, filosofa e giornalista di BioBlu, Tiziana Volpe, medico e ginecologa, Alessia Ciccatelli, avvocato e membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni. Allora stiamo parlando di un tema molto delicato su cui anch'io avevo delle profondissime lacune che ho iniziato a colmare negli ultimi tempi e mi sono accorto che avevo anche un po' di pregiudizio dettato da quella che era la narrazione dominante sul tema e quindi più ho approfondito la questione e più da un lato ho capito che era davvero complessa e di difficile, una difficoltà nel maneggiarla pieno perché comunque servono competenze tecniche che poi sforano sul campo etico, è un qualcosa di molto complicato e quindi in questi giorni mi sono anche un po' appassionato al tema e l'ho fatto però con quelle che sono le fonti, che sono variegate perché ovviamente si parte da una legge che però secondo me, ma questo lo vedremo poi dopo, anche grazie all'avvocato, è un qualcosa che crea molta confusione, ma prima di iniziare la discussione ci tengo anche a fare una precisazione che mi sono reso conto che è necessaria proprio con l'approfondimento di questi giorni perché nella narrazione dominante viene descritta come un qualcosa che è praticamente il frutto della lobby gay che sta cercando di imporre un qualcosa al resto della società, nulla di tutto questo nel nostro paese e neanche nel resto del mondo, anche perché nel nostro paese le statistiche dicono chiaramente che le coppie omosessuali che fanno ricorso a queste pratiche sono circa il 10% del totale. Ma c'è anche un altro problema che è emerso subito appena ho iniziato a approfondire il tema, quindi come chiamare questa cosa? E poi non è neanche una cosa soltanto perché sono diverse, sono diverse pratiche, sono diversi approcci, sono anche diversi rapporti che stanno a margine di questa pratica, quindi rapporti che possono essere anche di natura economica. Quindi rompendo un po' il protocollo che ci siamo dati con questo format io farei prima un piccolo giro velocissimo di opinioni di tutte le nostre ospiti per sapere loro come la chiamano. Allora, personalmente preferisco il termine gravidanza per altri, cioè una tecnica di fecondazione medicalmente assistita in cui una donna, la gestante, porta avanti per una coppia una persona che è impossibilitata per motivi biologici o di salute a portare in modo spontaneo avanti una gravidanza, quindi preferisco il termine gravidanza per altri. Dottoressa Volpe? Gestazione per altri, gravidanza per altri. Giulia Bertotto? Posso rubare un minuto in più su questo? Ci provo, provo ad essere sintetica, magari poi me li sottraete dopo. Per me possiamo chiamarla come vogliamo, sembrerò subito polemica, però diciamo che a me non soddisfa nessuna delle espressioni che vengono usate di solito, perché utore in affitto, anche se usata dai detrattori, sembra coinvolgere soltanto la zona genitale della donna, invece sappiamo che tutta la donna è posta sotto stress, quindi è un'espressione che limita molto sia perché si riferisce solo alla donna, sia perché non prende minimamente in considerazione il bambino, il trauma del bambino, il vissuto abbandonico del bambino. Maternità surrogata anche personalmente non mi piace perché per il bambino non c'è niente che possa surrogare la madre, non esistono succedanei di quell'esperienza, non esistono sostituti di quell'odore, di quella presenza, di quel battito cardiaco, di quell'esperienza inalienabile che è la dia dei madre e bambino. Mi chiudo, quasi fatto, gestazione per altri anche se ha, o gravidanza per altri, anche se ha quell'accento nobilitante che ci piace tanto, così solidale, mi piace meno che mai perché rivela tutta la sua ipocrisia, per il bambino anche qui è un'espressione illusoria, non esiste nessun altro significativo per il bambino. Per il bambino è significativa la madre, quindi quel battito cardiaco, quell'odore, quell'esperienza, quelle mucose, quel latte, come per la madre è significativo quel neonato e non altri, quindi possiamo chiamarla come vogliamo, ma per me la questione è molto semplice, come volete. Grazie. Cornella Mascoli? Mascoli, sì. Allora, gestazione per altri o gravidanza per altri, non sono per niente d'accordo con la tua posizione, ma perché da madre, posso dire, io ho due figli, posso dire che è vero che esiste una relazione importante nella maternità, nella gestazione, ma non è l'unica relazione possibile per il bambino e poi abbiamo vissuto noi donne sempre questa mitologia della maternità che ci ha costrette in un ambito che è culturale e non è un ambito naturale. L'ambito naturale è la riproduzione della specie che può avere varie declinazioni, fra cui alcune terribilmente negative, che esistono le medee, così come esistono le madri chiocce. Quindi sulla maternità io eviterei la parte diciamo più romantica e andrei a gestazione per altri in quanto è una donna che sceglie di dare, in questo sono d'accordo con te, il proprio intero corpo, perché non è solo l'utero, e di prestarlo a un'operazione che potrebbe essere vista in alcuni casi come un'opera proprio di solidarietà e di bene. Ok, grazie. Ho scambiato un cenno di intesa con Giulia, quindi penso che nel proseguo della discussione la potremmo chiamare GPA, anche perché è la formula più veloce di tutti e quindi dal punto di vista televisivo è più appagante. Ma veniamo agli aspetti tecnici, perché sennò non capiamo proprio di cosa stiamo parlando e chiedo alla dottoressa Volpe di aiutarci a capire, non l'universo mondo, ma cosa è contenuto, in quali varianti all'interno della legge 40 del 2004. La legge 40 prevede la possibilità della donazione di un gamete, cioè un ovocita o uno spermatozollico vedo spermatico per inseminare qualcuno, cioè una donna che può avere un compagno sterile per cui viene donato il seme, oppure una donna che non ha ovociti, che è sterile lei stessa e quindi a cui viene donato o impiantato, anzi impiantato l'ovocita di un'altra donna. Questa era, diciamo, la procreazione, questa è procreazione medicalmente assistita, che comprende una serie di tecniche. Inseminazione semplice, cioè quindi l'inseminazione semplice si intende la inseminazione con lo sperma, quindi che avviene non durante un coito, ma durante insomma con un, semplicemente al momento dovuto, anche con una siringa, con un cateterino attaccato, cioè molto semplice, tant'è che le femministe americane negli anni 70 lo autogestivano, cioè noi e il nostro corpo ha una parte, proprio ha una parte dedicata a come fare a casa una cosa del genere. trovati un amico che ti insegna, questo era anche molto per le coppie, diciamo, lesbiche, e quando ovuli fai il conto, adesso abbiamo anche cose più semplici, stick, eccetera, butti una siringa con un piccolo catetere appoggiato sul collo dell'utero, il seme, e quindi voglio dire, poi c'è invece la procreazione medicalmente assistita, comprende la fivet, la fivet che succede? Succede che con l'ovocita della donna, con lo sperma, vengono messi insieme a formare l'embrione fuori dall'utero, quindi la fivet è il trasferimento dell'embrione in utero, perché poi la fecondazione avviene nella tuba, vabbè, questo, la gestazione per altri, che cosa significa tecnicamente? Sono due possibilità, o una donna viene inseminata con il proprio, cioè inseminata con un liquido spermatico estraneo, con il proprio vocita, per cui è la madre biologica, intesa però pure qui, perché biologico, qual è il biologico? È il DNA che sta nella vocita o è la gestazione? Perché il problema attualmente, come frontiera degli studi, è che non c'è solo il materiale genetico, ma già in utero e successivamente, c'è l'interscambio emozionale tra il DNA del bambino e il corpo della donna, modifica addirittura, non solo determina quello che si chiama l'imprintillimbico, quindi già dà delle caratteristiche che porterà, ma modifica anche il DNA, cioè l'esperienza, intesa in senso ampio, ha la capacità di modificare il DNA e di trasmettere, perché questo è il principio dell'evoluzione, cioè di trasmettere questo cambiamento alle generazioni successive, per cui il problema è biologico il DNA, oppure può esserci anche una gestazione per altri dove la donna porta l'embrione che non ha il suo vocita e che non ha, ovviamente con liquido spermatico di altri. Quindi le possibilità, queste sono le possibilità tecniche, credo che al di là di questo, che già un po' mette paura, tutta questa manipolazione. Io adesso non voglio entrare, perché non voglio proprio entrare, però certo che il problema è di difficile, cioè dietro tutto c'è l'ipotetico sfruttamento del corpo della donna, ecco io una cosa sola, io non sono, no l'ipotetico, è possibile sfruttamento del corpo della donna, però vi devo dire che il controllo sulla riproduzione è lo stato fondante, è il motivo fondante di tutto quello che ruota intorno a questo, cioè l'invidia non è del pene, mi dispiace, l'invidia è della capacità procreativa, è il controllo degli uomini su questo, io soltanto questo, questo ha premessa, senza entrare nella... No, no, infatti sugli aspetti di natura più politica adesso andiamo con gli altri ospiti, perché eravamo d'accordo che la dottoressa ci avrebbe introdotto dal punto di vista medico, ma poi ci sono questioni un po' più delicate, che magari è anche giusto vederlo con chi si batte sul piano politico per queste cose, quindi vorrei chiedere innanzitutto una specifica sia alla Cicatelli che prima, che poi alla Mascoli e anche a Giulia, su la propria posizione rispetto alla GPA solidale, quindi abbiamo parlato di GPA generico, però anche qui c'è un grande malinteso propinato dalla stampa che mette in evidenza il piano commerciale di un eventuale rapporto tra le persone coinvolte e non tiene in debita considerazione quella che può essere anche un'attività di natura diversa, come appunto il gesto d'altruismo che può fare una donna sull'altra. Voi alla GPA solidale ovviamente siete d'accordo su quella commerciale e come la vedete? Allora innanzitutto una breve premessa, la gravidanza per altri solidale o altruistica si ha nell'ipotesi in cui la gestante porta avanti una gravidanza senza essere remunerata per questa attività, ma si prevede nelle varie leggi presenti in tutto il mondo una rimborso spese che vanno a coprire tutte quelle spese collegate alla gravidanza che possono essere acquisto di indumenti prima man, visite specialistiche, quindi particolari cure che lei ha dovuto adottare durante la gravidanza e che sono ovviamente documentate e collegate ad essa. Nella gravidanza per altri commerciale che è in alcuni paesi prevista per legge invece oltre a questo rimborso spese vi è una vera e propria retribuzione per l'attività svolta dalla gestante che comunque appunto porta avanti questa gravidanza, la deve portare avanti in totale sicurezza, quindi ovviamente deve avere delle accortezze particolari e quindi viene anche retribuita. Come associazione Luca Coscioni abbiamo presentato anche una proposta di legge per la gravidanza per altri solidale in Italia che è stata depositata alla Camera dall'Onorevole Riccardo Maggi al Senato dal senatore Ivan Scalfarotto e con alcune modifiche sempre al Senato dalla senatrice Mariolina Castellone proprio per disciplinare la tecnica della gravidanza per altri solidale dove quindi si è prevista questo rimborso spese per la gestante e anche una polizia assicurativa che i genitori intenzionali fanno in favore della gestante per tutti gli eventuali rischi connessi ad una gravidanza perché non dobbiamo dimenticare che una gravidanza non è mai esente da rischi neanche una spontanea. Però scusami ti voglio fare una domanda a questo punto ma queste garanzie del rimborso spese, l'assicurazione, anche il sostegno materiale di cui parlavi non dovrebbe essere proprio il pacchetto base che uno Stato dovrebbe fornire a tutte le donne che affrontano una gravidanza e che quindi si assentano dal lavoro, che devono affrontare degli oneri, non varrebbe la pena battersi di più per far affermare questi diritti? Siamo d'accordo su questo. Ok, ok, no no, però campagna su questo non c'è stato, però io penso che sia interessante questo anche perché fa crollare la narrazione ipocrita e falsa del governo che si riempie la bocca di politiche sulla famiglia e poi appunto magari non mette neanche due lire per comprare i pannolini. Ma posso avere anche il punto di vista della Mascoli su questa cosa? Allora io mi trovo molto vicina alle posizioni di Alessia perché ritengo che la gestazione per altri, si verifichi nel discorso sulla gestazione per altri quello che è un storico problema che affrontiamo di etica, di bioetica che affrontiamo sempre. Da un lato il problema dell'autodeterminazione che diciamo è più l'aspetto liberale, cioè la determinazione sul proprio corpo della donna che può scegliere anche operare delle scelte dannose che io valuterei come dannose per dire con cui non sono d'accordo, però c'è il discorso dell'autodeterminazione e questo è un aspetto della faccenda. L'altro aspetto è quello sociale, ovvero lo sfruttamento del bisogno. Questa cosa mi domando quanto in una legge che parla specificamente di un aspetto di bioetica sia risolvibile quando sappiamo tutti che la fuoriuscita dal bisogno è un problema di giustizia sociale, non è un problema di bioetica. Quando fossimo riusciti a costruire, mi domando, una società che non conosce più il bisogno, resterebbe solo la solidarietà e l'autodeterminazione anche a fare qualcosa con cui la mia etica personale non è d'accordo. E allora quello che mi domando, uno Stato cosa può fare in fatto di etica? Secondo me può fare solo delle leggi che siano applicabili e che siano delle leggi non eludibili così facilmente come questa. Poi ci arriveremo a quanto è eludibile questa legge. Per cui è assolutamente ineludibile anche perché se in natura il signorotto poteva comprare la gravidanza con uno stupro della moglie del proprio fattore, continuerà a farlo perché ancora adesso esistono i signorotti, a volte con giacca e cravatta, e continuano a praticare queste forme di stupro. Se la natura consente di fare delle cose eticamente riprovevoli, le donne che praticano, che accettano di surrogare la gravidanza, quindi che offrono il proprio corpo anche in modo solidale, verrebbero costrette a subire uno stupro. E questa è una cosa da tenere molto presente. Bisogna stare molto attenti perché primum non nuocere, magari per ottime ragioni etiche, ma cerchiamo di non nuocere alle donne, proprio a quelle donne a cui siamo, che vogliamo proteggere, perché io capisco le ragioni di chi parla di sfruttamento, le capisco sono le mie, mi sono vicine. Per cui sicuramente io sono favorevole, concludo, alla GPA solidale, sicuramente. Quanto all'altra temo che sia abbastanza difficile normarla, però mi accontenterei che ci fossero dei percorsi di regolamentazione, non di proibizione, perché la regolamentazione diventa vitale. Vitale per esempio capire che i genitori richiedenti devono farsi carico del bambino anche se qualcosa va male e può sempre andare male, anche se il bambino dovesse avere dei problemi alla nascita e questo può accadere. Non mi basta una semplice assicurazione, questo è proprio un'assunzione di responsabilità a favore della donna, della donna che ha portato avanti la gravidanza generosamente o a pagamento. E secondo, la donna stessa dovrebbe fare un percorso per capire i rischi che corre, dovrebbe essere informata prima di entrare in questo percorso. L'eventuale albo delle donatrici dovrebbe prevedere un percorso di consapevolezza, perché le donne devono sapere a cosa vanno incontro e scegliere liberamente e non per costruzione o per bisogno. Per il resto cerchiamo tutti di costruire una società che non preveda più il bisogno di vendersi. Grazie, d'accordissimo. Cerchiamo di non mettere le donne in condizione di dover vendere il proprio corpo per sopravvivere, è questa società che ci mette in croce in questa maniera. Giulia Bertotto, ci puoi dare la tua opinione al riguardo? Allora, io per rispondere... Con un minuto in meno che ti sei rubata prima. Ma poi facciamo i conti. Come su WhatsApp uno per, uno virgola. Allora, io per rispondere alla domanda che hai fatto vorrei rispondere ad Ornella. Non è romanticismo, si tratta di neuroscienze, sono i principi base della psicologia, l'attaccamento in volbi, o per esempio sono i dossier, i documenti dell'OMS e dell'UNICEF che spiegano quanto è importante per un bambino, non so quanti qua lo sanno, un neonato appena nasce va automaticamente, spontaneamente, verso il capezzolo della madre perché ha lo stesso odore dell'utero, guidato anche dal battito cardiaco. Non so se sapete, il colostro, il primo latte che dà la mamma. Fornisce, ho l'ansia, fornisce vitamine, agenti anticorpi, agenti antibatterici, insomma tutto quello che serve al bambino per crescere. Per non parlare di quanto rafforza il legame, la diade madre e bambino. Quindi dico, va bene, quindi io rispondo che no, non possiamo accettare neanche la GPA donativa laddove davvero lo fosse perché poi sappiamo anche quanto è facile coprirla, insabbiarla con poi polizzi, assicurazioni, agenzie, menu e tutte queste storie qua. Quindi un bambino in quanto soggetto di diritto per se stesso e non oggetto di diritto di altri non può essere né comprato né donato, anche perché il messaggio pedagogico e sociale che poi daremmo sarebbe nefasto, gravissimo, se tu un bambino lo puoi regalare, che valore ha la vita umana? Non lo so, lo chiedo a voi. Allora, Cicatelli... Ah, scusa, posso? Un'ultima frase. Mi ha già rubato tutti i minuti in più, no, 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 ok, Cicatelli vuole rispondere però dopo anche una domanda. Vai, va, va, vai. Non va? No. Non lo so? Sì. Ok, ora va. Volevo rispondere un attimo ad Ornella su due punti. Sulla parte della gestante che deve essere informata siamo pienamente d'accordo, infatti nelle varie legislazioni nazionali presenti sul tema c'è un percorso oltre che di accertamento psico-fisico della donna gestante a poter portare avanti una gravidanza, deve essere informata su tutti i rischi della stessa anche in termini legali, quindi c'è proprio una opera di consulenza anche legale e medica prima della firma dell'accordo di GPA e oltre questo il fatto che i genitori i genitori intenzionali si debbano assumere la responsabilità, siamo d'accordo infatti sia nella legge 40 ad oggi comunque è previsto il disconoscimento di paternità e il divieto di parto in anonimo per qualsiasi tecnica di fecondazione medicalmente assistita anche se vietata in Italia ed eseguita all'estero, quindi anche nel caso di GPA eseguita all'estero e sempre nella proposta di legge ad esempio che noi abbiamo elaborato c'è proprio scritto il fatto che il nato da gravidanza per altri è figlio della coppia di genitori, intenzionali che ha avuto accesso alla gravidanza per altri, quindi comunque siamo d'accordo e ci sono già nelle leggi presenti le tutele che richiedevi e in quelle che magari sono state elaborate ci sono. Allora se la dottoressa Volpe non vuole aggiungere qualcosa perché la vedevo tentennante? No, volevo dire che la dia di madre bambino che diceva giustamente lei con tutte le implicazioni emotive, come dicevo pure prima, non solo emotive, è proprio fisiche, però è un processo che non va, cioè è una parte della vita di un essere umano, di un bambino, perché poi in realtà è stato studiato che si va verso il seno perché conosce questo, ma in mancanza della madre, voglio pensare adesso alla palestina, perché poi noi stiamo facendo, stiamo facendo no? Quindi poi anche eticamente no? Stiamo cercando di sviscerare qualcosa che ci pone tante domande quando poi nel mondo si fa molto prima a rompere l'unità della dia di madre bambino, vabbè mi ha detto questo che è un inciso, però poi continua perché là dove la madre non è presente si è visto, le neuroscienze dicono che non fa, cioè il caregiver, l'attaccamento anche a quello che non è madre, cioè il cosiddetto caregiver, anche rispetto al sesso del caregiver, questo è qualcosa che ci siamo, si sono posti anche gli psicologi, nel caso delle coppie omosessuali, dice ma poi che fa? No, perché il bambino comunque riconosce il caregiver, la formazione della mente di un bambino che è coi neuroni a specchio, cioè è data dalla relazione, non con la madre, con la persona di cui si occupa, non è che se invece della madre c'è un altro, forse avrà un momento di smarrimento, ma è uguale, l'attaccamento, lo sviluppo mentale del bambino avviene, cioè scusate, adesso divento romantica io, è l'amore e la relazione con cui crescono i bambini, non è la proprietà. Perché ce lo dobbiamo mettere il bambino in questa condizione? Quando gli orfanotrofi scoppiano di bambini, perché dobbiamo programmare nuovi abbandoni? Perché dobbiamo... Allora, questo argomento che avrei voluto toccare pure ha fatto sollevare molte mani, quindi adesso... Un'ultima cosa, abbiamo parlato di povertà, di Palestina, di stupro, di leggi, di governo, della Meloni, ok, va benissimo, mi rendo conto che il tema per alcuni sia complesso, per me non lo è, si fa di tutto per non parlare del bambino, perché viviamo in una società adultocentrica, non è neanche mia questa espressione, e dovremmo cercare di empatizzare un po' di più con quello che sente un neonato, che non ha tutti questi strumenti per verbalizzare quello che vive. Il suo trauma è pre-cognitivo, è prima, viene prima di quanto noi possiamo elaborare e pensare, dovremmo cercare di più, secondo me, di metterci nei suoi panni. Ok, allora a questo punto la manescoli, poi... Guarda, allora mi domando, i bambini dati in adozione, che sono una marea, gli orfani, stiamo parlando tutti di gente persa nel turbine dell'esistenza? Io penso di no. Io penso che la vita è una cosa molto complessa, in cui quello che dici tu può essere tranquillamente vero, la dia dei madre figlio, eccetera, e posso anche sbilanciarmi a dire che è la condizione ottimale. La realtà però parla d'altro. La realtà ci parla di madri che rifiutano i figli, madri biologiche. Ci parla di bambini dati in adozione, i famosi orfanatrofi che scoppiano. Ci parla di bambini che rimangono orfani nelle guerre, ma non solo nelle guerre. Ma noi ne fabbrichiamo altri, benvenuti nel futuro. No. Sì, ma questo che c'entra, noi non stiamo fabbricando degli altri, noi siamo semplicemente, noi, non noi, chi richiede, sta seguendo una cosa, un impulso della specie, che è quello di trasmettere la propria genetica, che io posso considerare anche discutibile, capisci? Cioè, ma non è la mia etica che fa la differenza. Noi stiamo dando un grande sforzo, noi in Italia c'è un grande dibattito molto acceso su questo tema, perché ovviamente c'è stata una legge che è stata appena approvata e che sparaglia un po' le carte. Ma tutto il vigore, la verve che stiamo mettendo in tutte queste iniziative, perché non trovano un corrispondente anche nel tentativo di semplificare le procedure di adozione e soprattutto per i single. Sono d'accordo, sono d'accordo, ma non è un invece, eh? Io sono diecimila volte d'accordo, anche perché non mi piace che i bambini rimangano soli, però è un inoltre, non è un invece. Cioè, il problema comunque si pone. Cioè, è inutile che noi diciamo sempre c'è ben altro da fare, intanto risolviamo questo, perché avviene per 250 coppie italiane ogni anno. Sì, ma i bambini e gli orfanotrofi sono molti di più e soprattutto le famiglie che vorrebbero prenderli e non glieli danno. Lo so, però succede una cosa che io posso, ripeto, non è la mia etica personale, perché qui stiamo facendo un discorso legislativo che prescinde dall'etica individuale di ciascuno di noi. Io posso non essere d'accordo e dire, beh, forse è arrivato il momento di adottare un bambino o prenderlo in affido, che è ancora più generoso perché non c'è il dato proprietario. Però, detto questo, se esistono nella realtà 250 coppie che vogliono fortemente avere un figlio con la propria genetica, esisteranno che ci sia la legge o meno. Come per l'aborto. Abortiranno le donne, che ci sia una legge che lo regola e che lo rende decente, o andranno dalle mammane. Allora, perché queste 250 coppie debbono essere, che siano etero o che siano gay, costrette a qualcosa di sordido? Sordido come comprare davvero il corpo di una donna. Mentre invece, se tutto diventa legale e sulla botte, come si dice, tutto diventa controllabile. Io questo temo. Quando ci sono pratiche delicate, preferisco sempre che le cose siano visibili, chiare, piuttosto che essere sotto banco, perché lì avviene di tutto. Avviene il bambino che nasce con dei problemi e viene scaricato alla madre e quella madre è nei guai, poi dopo la madre surrogata. Questo avviene. Oppure avviene la madre, che siccome non c'è una legge che separa l'ovulo, la donatrice di ovocita dalla donatrice di utero, ha un legame biologico col bambino e si può creare una battaglia legale, infima, sulla sorte di una creatura, che io, questa è una cosa che non ci posso neanche pensare, sono madre i due figli, quindi figurarsi, perché esiste un legame biologico e in tutto il mondo le leggi fanno prevalere il diritto genetico della biologia, della genetica, rispetto anche all'amore. Al fatto di chi ha preso un bambino e lo ha educato, lo ha tirato su e poi dopo arriva il genitore biologico, che non lo aveva dato in adozione, quindi non si poteva discutere più la cosa, che lo rivuole e che il bambino lì fa il pacco. Cos'è importante? In che utero sei stato o chi ti ha amato per tutta la vita? Abbiamo fatto aspettare un po' la cicatelli, a questo punto... Due osservazioni volanti, cerco di essere veloce. Da un lato, innanzitutto, penso che qualsiasi gravidanza sia un atto egoistico dei genitori, anche una spontanea, perché nessuno chiede di venire al mondo. È una coppia che decide di mettere su famiglia in modo spontaneo e se non ci riesce, magari con tecniche di fecondazione assistita, tra cui la gravidanza per altri, se ci sono problemi come la sindrome di Rokitansky, in cui la donna nasce con le ovaie funzionanti ma senza utero per poter portare avanti una gravidanza. Quindi, partendo da questo presupposto, noi parliamo di bambini che altrimenti non sarebbero manati, quindi se prima diciamo... No, 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 aspetta, se prima dici cosa vogliamo fare, questi bambini sono pacchi e tutto? No, perché sono dei bambini che sono stati fortemente voluti dai propri genitori che hanno avuto accesso ad una tecnica di fecondazione assistita per poter mettere su famiglia. Detto questo, non sono neanche d'accordo con il mettere in paragone la gravidanza per altri e le adozioni, perché noi parliamo comunque di tecniche, di istituti che sono anche, che trovano una fonte normativa, ok? La gravidanza per altri, la legge 40 che la vieta però in altri stati è normata e le adozioni e la legge 184. Hanno beni giuridici differenti, cioè da un lato la legge 40 parla di procreazione medicalmente assistita, l'istituto delle adozioni ha ad oggetto la tutela di un minore che in Italia in realtà non sono così tanti bambini posti in stato di adottabilità, perché per poter dichiarare un bambino in stato di adottabilità ci deve essere un abbandono morale e materiale ed è molto grave come situazione e non tutti i tribunali per i minorenni dichiarano bambini in stato di adottabilità, quindi noi non possiamo dire allora puoi adottare, perché sono due cose completamente diverse, tra l'altro appunto bambini in stato di adottabilità per fortuna in Italia sono pochi, quindi non possiamo andare a dire ah vuoi un figlio allora adotta, non è la soluzione, la soluzione è da un lato implementare e migliorare la procedura di adozione e siamo tutti d'accordo perché è lenta, è faraginosa, ci sono controlli su controlli, perché c'è un sistema che mette in contatto i vari tribunali in modo da dire c'è un bambino in stato di adottabile a Milano, la coppia di Napoli lo può adottare, non funziona questo sistema, quindi la coppia di Milano può adottare soltanto un bambino dichiarato in stato di adottabilità a Milano, siamo d'accordo che non funziona, deve essere da un lato migliorato quello e da un l'altro regolata la gravidanza per altri perché come ci dicevamo all'inizio quando c'è un divieto soprattutto assoluto si spingono le persone nella clandestinità, dove c'è la clandestinità non c'è controllo e lì c'è abuso. In realtà è un po' più facile aggirare la legge come diceva prima anche la Mascoli perché basta andare all'estero in un paese in cui la fanno e la madre non riconosce il bambino, uno dei genitori torna in patria avendo riconosciuto quel bambino in quel paese e poi se lo inserisce all'interno del suo nucleo familiare. Io proprio sulla legge volevo tornare a parlare con la dottoressa Volpe che mi ha detto che non voleva più intervenire però questa domanda ci tengo a farla per i limiti della legge. Qui viene chiesto ai medici di fare i delatori, perché non si oppongono? Un medico che è a conoscenza è connivente, qui non si tratta di delazione. No, si chiede ai medici anche di famiglia di segnalare, si scoprono, no non è proprio così, la cicatelli scuota la testa, allora ci può aiutare che lei è preparatissima sulla norma. No, scusate, non è proprio così. Si sente cicatelli? Microfono? Non è proprio così perché sì, era stata una dichiarazione della Ministra Roccella, però a prescindere il medico comunque c'è un articolo del codice penale che dice che non è che può andare a rendere noto che il proprio paziente abbia commesso un reato, ma oltre questo anche si parlava dei pediatri che devono dire se quel bambino è nato dalla tecnica di gravidanza per altri. Nell'atto di nascita non è scritto se il minore è nato da una tecnica di gravidanza per altri, neanche se ad oggi in Italia è nato da una tecnica di procreazione medicalmente assistita, quindi il pediatra non lo saprebbe, quindi non è assolutamente una cosa fattibile. Ok, meno male, questo ci rassicura. C'è un diritto alla privacy, cioè una divulgazione di questo tipo sarebbe per un medico penalmente perseguibile. Va bene, va bene, questo ci mette a arrivare da questi scenari perché se ne sono paventati davvero tanti in questo momento, ma io voglio tornare di nuovo sull'aspetto più normativo, quindi continuo ad appoggiarmi sull'avvocato Cicatelli per chiedere una cosa che a me sembra contraddittoria, c'è un grande consenso sulla GPA solidale, quindi su tutto quello che non è commerciale, però chi va all'estero è praticamente solo commerciale perché dove si fa nei paesi appunto come poteva essere l'Ucraina prima, l'India adesso, è poco credibile che le donne lo facciano per solidarietà, lì è evidente che c'è un bisogno economico, quindi quello che è da cambiare secondo me, vista in quest'ottica, non è tanto la norma del 2024 quanto quella del 2004, o sbaglio? Allora, piccola precisazione e poi arrivo all'ultima domanda, abbiamo detto prima che ci sono queste due tipologie di GPA, quindi quella solidale e quella commerciale, in Ucraina in realtà la legge prevede soltanto la forma altruistica, la gestante non riceve un compenso economico ma il rimborso delle spese collegate alla gravidanza? Perché si può prendere fino a 30.000 euro una donna ucraina per fare una cosa del genere? La legge però la prevede in forma altruistica, poi se ci sono determinati mediatori, io non... Ma dai, andiamo proprio alla sostanza delle cose, perché una donna di un paese del terzo mondo dovrebbe prestare il proprio corpo per una ricca famiglia di qualche paese occidentale? È ovvio che lì ci sta per forza un meccanismo economico alla base? Allora, non parliamo sempre di ricche famiglie perché ci sono persone che fanno anche finanziamenti a vita pur di poter avere un figlio. Va bene, che fanno un grande investimento. Sì, 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 ma tralasciando questo, lo scorso anno ad esempio abbiamo avuto un convegno il 5 aprile, una giornata intera in cui abbiamo trattato della gravidanza per altri con esperti anche internazionali, abbiamo avuto anche l'onore di ricevere delle videotestimonianze di gestanti perché parliamo sempre delle gestanti, di donne che vengono sfruttate, che non possono decidere in modo autonomo e consapevole circa questa pratica, ma nessuno le sente mai. Noi ne abbiamo sentite 3-4 e tutte ci hanno detto, c'erano quelle che le avevano fatte donne americane dove è presente anche la GPA commerciale e quindi avevano ottenuto anche una retribuzione e chi in forma altruistica, ci hanno detto io avevo già figli miei, avevo affrontato le gravidanze in modo sano, assolutamente senza problemi, volevo poter donare questa speranza anche ad un'altra coppia che le mie possibilità non ne ha. Va bene, la mascole ho visto che si attivava prima, vuole aggiungere qualcosa? Sono perfettamente d'accordo, è molto difficile determinare, per me all'inizio io ero molto drastica sul fatto della gratuità e sul fatto della GPA solidale, piuttosto che la GPA commerciale, perché per mia formazione sociale soprattutto la cosa è difficile di gestione. Poi mi sono posto il problema, ma è la mia etica quella che è in gioco o la regolamentazione di un fenomeno che comunque avviene, che a me piaccia o meno? cosa posso fare io di meglio per queste donne, che sia il meglio per loro, al di là del fatto che io non lo farei, io donna, di chiedere a un'altra donna di portare avanti la gravidanza per me. Allora mi sono chiesta, esiste una quota parte di persone che comunque accetta la retribuzione in nome del fatto che magari ha dei figli a cui vuole fare il fondo, nel caso delle americane e le canadesi, dove vanno quasi tutte le coppie di gay uomini, tra l'altro, perché devono fare il fondo per gli studi dei figli propri? E' mai giusta questa cosa? Assolutamente no, però io chi sono? E questa è la cosa. È un discorso eticamente sensibile a questo. L'autodeterminazione di queste donne, quello che io ritengo che sia un danno per loro, e lo ritengo profondamente, e continuerò a pensarlo probabilmente, loro hanno diritto a farsi un danno? Qualsiasi cosa ne pensi io? Ma non è l'autodeterminazione il momento in cui è la società che ti spinge ad avere un bisogno, perché lo Stato non ti consente di garantire il diritto allo studio ai tuoi figli. Allora, sono d'accordo con te, però il bisogno non lo elidi con una legge sulla GPA, cioè tu ammonte... Con una riforma generale del sistema, appunto, il problema io lo vedo nel capitalismo, ma questo è tutto un altro... se non è tutto un altro, è il cuore della faccenda, è il cuore della faccenda. Il cuore della faccenda è che siamo in una società di sfruttamento. Lo sfruttamento o lo elimini a monte o non ha senso pensare di criminalizzare una donna che usa il proprio corpo in modo commerciale, dalla prostituzione, perché anche di questo si può parlare volendo, fino alla GPA. A me onestamente non piace, ritengo che sia una mercificazione del corpo che è il sé più profondo di una persona e ne sono profondamente convinta. Dopodiché mi sono posta il problema, ma io perché devo criminalizzare questa donna? Perché ho diritto di farlo? E soprattutto è realistico? Ci si riesce? Ci si riesce a bloccare questa pratica? Secondo me no. Ma sugli aspetti repressivi, io sono un grande fautore dell'inapplicabilità di tutte le leggi, ma questo è anche un discorso a parte. Guarda, io penso una cosa, uno Stato se promulga leggi che non sono applicabili e che sono fanfarone, secondo me perde di credibilità. Ma certo, ma l'Italia è specialista in questa cosa. Guardiamo anche quello che è successo in Albania con i centri di detenzione per migranti. Era un grande sport che si è trasformato in un... E li andiamo alla cosa, reato universale. Ma porca la miseria, ma se tu non riesci nemmeno a fare una legge nazionale che non vada, se va contro i tuoi trattati a cui hai derito, come ti viene in mente di fare le leggi universali? Cioè i reati universali, ma che cosa ti dice la testa? Ma perché la politica è diventata propaganda, ma penso che Giulia volesse dire qualcosa al riguardo? Sì. No, no, prego, prego. Mentre risolviamo il problema forse risolvibile della povertà, delle guerre, delle disuguaglianze, mentre rincorriamo l'utopia, abolire il capitalismo, eccetera, eccetera, però noi continuiamo comunque a sottrarre al bambino il suo diritto inalienabile di stare con la madre. Chiaramente è una provocazione per dire che mi rendo conto che ci siano tutti questi aspetti, ma non è che quindi mentre risolviamo questo allora strappiamo i bambini dalle madri perché c'è la povertà, perché c'è il bisogno, perché c'è lo stupro, perché c'è lo sfruttamento, perché mi devo autodeterminare. Questa autodeterminazione che continua sempre, sempre, sempre veramente a ripetersi a scapito del bambino. Penso che la questione forse radicale, non lo so, il nucleo di quello che stiamo parlando, che bisognerebbe avere il coraggio di dire è sulla base di quale principio è un diritto, perché mai dovrebbe essere un diritto per qualcuno andare a commissionare un bambino o a qualcun altro. Cioè io questo diritto proprio non lo vedo da nessuna parte. Ora rispondo alla domanda più in ambito della legge. Allora, premetto che mi si creda o no, non è mio interesse criminalizzare nessuno, una donna, un uomo, una coppia uomo, una coppia etero, non mi interessa né tantomeno difendere il governo, che non è certamente il governo in cui mi riconosco. Non sono neanche un'esperta di legge e posso anche aggiungere che proibire senza educare credo anch'io che non serva granché. Non ho mai creduto che la legge sia più forte della cultura, la cultura è certamente più forte della legge, però da qualche parte dovremmo pur cominciare. Quindi, non so, posso solo auspicare e sperare che almeno una legge che dica commissionare bambini a terzi è vietato ed è illegale, possa poi servire per lavorare più ai fianchi di una cultura. Cultura che parla continuamente di libertà e autonomia, determinazione del corpo, ma mi sembra non essere più in contatto con il proprio corpo, con la propria verità biologica del corpo, con il nostro sentire, con la nostra propriocezione emotiva. Lo dimostra la conversazione di questa sera, mi avviso, lo dimostra una medicina e una psicologia sempre più lontana dai suoi giuramenti, sempre meno incline al paziente e sempre più incline invece a obbedire ai protocolli e lo dimostra il nostro paradigma di vita sempre più scientista e sempre meno scientifico. Perché, ripeto, le cose che io ho portato, il materiale che ho portato non sono romanticismi, ma sono neuroscienze, psicologie e per chi fosse interessato vi do anche un elenco alla fine, se fuori, di psicologi, pedagogisti, filosofi e quant'altro che hanno parlato del diritto inallenabile del bambino a stare con sua madre. Bisognerebbe anche parlare del diritto della madre a stare con suo figlio, ma questo poi diventa più complicato, va bene. Grazie. Io mi sconfesso subito da solo perché ho detto che non voglio elenchi, invece un elenco lo voglio e torno dall'avvocato Cicatelli perché lei un elenco l'ha fatto e le varie leggi che ci sono nei vari paesi del mondo. Quindi la domanda, proprio un flash, secondo te qual è la legge fatta meglio a livello mondiale? Va? Ok. Partiamo da un presupposto e cioè che nessuna legge è perfetta ma tutto è sempre perfettibile e migliorabile, quindi non c'è una legge migliore delle altre. Ci sono tante leggi in materia di gravidanza per altri, ci sono oltre 68 stati che la disciplinano nella forma solidale o commerciale, però abbiamo oltre 68 stati che quindi la prevedono con legge e molti altri in cui invece è praticata dove non c'è una legge ma c'è una prassi giurisprudenziale o comunque accettata come tecnica e solamente 20 prevedono un divieto espresso con legge, quindi il numero parla chiaro. Detto questo però possiamo trovare nelle varie leggi un nucleo minimo di tutele che secondo me sono quelle fondamentali che devono essere alla base di ogni legge partendo sempre da quel presupposto che è sempre tutto perfettibile, però ovviamente la capacità di intendere e di volere delle parti, il fatto che entrambe le parti, quindi sia i genitori intenzionali che la gestante siano sottoposti ad uno screening medico che vada ad accertare la buona salute psichica e fisica, che siano accompagnati nel percorso anche da informazioni legali ad hoc in modo tale che il consenso sia sempre informato, consapevole e libero, che vi siano delle tutele anche una volta nato il bambino, sia soprattutto per quest'ultimo perché dobbiamo sempre guardare al suo migliore interesse e per tutte le parti coinvolte, quindi comunque c'è un nucleo minimo di tutele che ritengo che debba essere presente in ogni legge ma lo ritroviamo più o meno in tutte. Ok, andiamo verso la chiusura, a questo punto torno dalla Mascoli per chiederle, oramai questa legge c'è, sono tutte aggirabili per carità, ma cosa possiamo fare per cambiarla? Io penso che noi dobbiamo continuare la nostra battaglia per portare questi contenuti che abbiamo espresso, è cercare di abrogare una legge così, che si abroga da sé un pochino, però il problema che se c'è pesa, pesa e pesa negativamente sulle relazioni perché è una legge comunque di costrizione, è una legge di criminalizzazione, è una legge negativa. Allora la mia battaglia secondo me, parlo per me perché è un dibattito molto aperto all'interno del movimento femminista, non lo nascondo, esistono femministe che sono a favore della legge contro la GPA come reato universale, io non la vedo così, tutto il mio percorso mi porta a dire che invece non è questo quello che è necessario fare, quello che è necessario fare è creare una legge che non proibisca ma regolamenti e che tuteli soprattutto in modo ferreo gli interessi delle donne. Quanto agli interessi del bambino sono tutelati laddove l'interesse sia della madre biologica o del genitore richiedente, chiamiamo così, del genitore o della genitrice richiedente sia un rapporto serio e solido, sia qualora la madre surrogata venga trattata opportunamente e non viva questa gravidanza come un incubo. Perché se è vero che esistono le neuroscienze che ci raccontano della relazione in utero, una gravidanza come un incubo vissuta con il terrore e con i sensi di colpa non credo che trasmetta questo gran bene al bambino. Vertotto, è un flash che ci facciamo con questa legge, ce la teniamo oppure no? C'è stata molta confusione su questo, cioè il fatto che ci siano gravidanze che funzionano e no, rapporti madre-bambino che funzionano meno, non significa, cioè esiste un principio che è il principio della madre sufficiente, espresso dagli psicologi, cioè tu comunque la madre ce lo devi lasciare col bambino, poi se andrà bene o male, questo non dipende dal controllo che possano fare i terzi, ma questo non significa che i terzi possano programmare l'abbandono di un bambino, non so più come ripeterlo. Questo l'hai detto, però la legge va bene oppure no? Ho già espresso lì, ma ecco sulla legge la imposizione è complessa, penso che da qualche parte occorra cominciare, la legge sicuramente non è sufficiente, è perfettibile come diceva l'avvocato. Appunto sì, a questo punto chiedo anche... No, scusate, la legge se parliamo della legge... In generale, la 40, la 40, la 40, non questa, in generale, però ovviamente... Per me è un buon inizio, è un buon inizio. Io volevo soltanto evidenziare questo, che la gravidanza per altri era già vietata dalla legge 40 e sempre dall'articolo 12,6, con questa legge Varchi si è estesa la punibilità dei cittadini italiani che effettuano questa pratica all'estero, quindi adesso si va a fare un principio di extraterritorialità della punizione del cittadino italiano che è contro uno dei principi fondamentali del diritto penale, cioè il principio della doppia incriminazione, che vuol dire come posso io punire un fatto che per me è reato ma che viene commesso in uno stato dove invece è legale, è lecito. Manca questo principio della doppia incriminazione, quindi questo porterà dei problemi dopo di applicabilità della legge, anche di cooperazione dell'autorità giudiziaria per ottenere gli elementi probatori per poi perseguire i cittadini italiani una volta tornati all'estero, ma in tutto questo chi ci va di mezzo sono le famiglie e soprattutto i bambini che sono rientrati in Italia, quindi questo è il problema. Lei mi sta dicendo che un cittadino italiano che commette una cosa che in Italia è reato e la va a fare all'estero, secondo lei non è perseguibile in Italia? Ma fino ad ora non era perseguibile, infatti... Questo vale anche per chi va a combattere all'estero? Chiedo per un amico. No, però qui mettiamo nel calderone argomenti differenti per... No, 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 non è vero perché io sto parlando semplicemente della legge 40 e della gravidanza per altri, non sto estendendo il discorso... Perché persone sono state perseguitate per quello che hanno fatto all'estero, per altre questioni, insomma... Però se vogliamo estendere il discorso ad ogni argomento politicamente sensibile, tutto è un conto, se lo vogliamo tenere circoscritto all'argomento di cui parliamo oggi... No, no, era una questione di principio, senza microfono non ce la facciamo. Io l'avrei voluto tenere circoscritto al bambino, ma mi sembra che sia l'unica cosa di cui qua non interessa, in quanto invece è il primo interessato, mi sembra proprio di sì. Vabbè, comunque la domanda di fondo che volevo fare all'avvocato, voi come associazione farete il referendum o qualche iniziativa, campagna per... Allora, innanzitutto abbiamo già depositato questa proposta di legge, adesso poi verrà magari integrata anche per richiedere l'abrogazione della legge Varchi, che ancora non è in vigore, perché ancora deve essere firmata dal Presidente, ancora deve essere promulgata e poi quindi pubblicata in gazzetta ufficiale. Detto questo, sul referendum può essere indetto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, questo sì. In questo momento però sappiamo anche che c'è molta difficoltà nel far votare i cittadini italiani, con la piattaforma referendaria online... Però c'è ancora più difficoltà a far votare questo Parlamento, perché mi sembra blindatissimo. Sì, 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 su quello siamo d'accordo, anche perché abbiamo visto che ormai approvano tutto in una camera, la mandano all'altra, ha già finito il pacchetto, quell'altra dice che va bene e viene approvata una legge. Mi è venuto un brivido lungo la schiena pensando a pacchetto e a quello sicurezza di cui abbiamo già parlato e torneremo a parlare. Ma il nostro tempo è finito, ringrazio tutte le ospite, ringrazio il pubblico, con chi ci ascolta invece ci si vede domani, sempre su Ottolina, per il seguente blocco di Metamorfosi in cui faremo un approfondimento sulla situazione iraniana e in particolar modo i rapporti con Israele. Questa puntata è stata possibile grazie a Friccicore di Via della Caccia 14 a Roma e a For You Video di Via Alessandro Cialdi 1 sempre a Roma. Vi ricordo inoltre che Metamorfosi è autoprodotta e pertanto sono gradite le donazioni sul conto corrente della trasmissione che trovate in descrizione. Esprimo il più sentito ringraziamento agli ospiti, al pubblico e soprattutto allo staff di Metamorfosi, a quello di Ottolina e a quello di Molti Popolare Roma. Saluti! Grazie! Grazie! Grazie!